Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, terminato al Parco dei Principi questo scontro tra titani che vedeva contraporsi il PSG al Bayern Monaco. Sì, ho preferito vedere questa partita a Milan-Tottenham perché onestamente era una partita che mi gasava un po' di più. Poi, vabbè, giocava a Messi, quindi per principio già l'avrei guardata, però onestamente era una partita di un livello, a mio avviso, superiore. Tre, se non forse anche due. Ed è stata una partita che un po' però mi ha deluso, in termini di occasioni in realtà mi ha deluso perché poi alla fine se andiamo a vedere di vere e proprie occasioni ce ne sono state poche. Il gol che è arrivato da parte del Bayern è stato un gol abbastanza imbarazzante perché Donnarumma fa un errore clamoroso. Un clamoroso, non puoi fare un errore del genere. L'ennesima partita è in Champions League, nelle partite che contano, in cui Donnarumma fa un errore grave. Questo è veramente un errore grave, ragazzi. Adesso il passaggio del turno del PSG è difficile, perché andare a vincere all'Allianz Arena non è assolutamente facile. Nonostante il Bayern non stia vivendo una delle sue migliori stagioni, oggi è stata sicuramente la squadra più pericolosa tra le due. Ragazzi, parliamoci chiaramente, il PSG deve fare di più, perché oggi del PSG io salvo pochi, 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 pochi giocatori. Salvo Nuno, dal punto di vista offensivo è stato lui a creare comunque quel qualcosa, insieme a Messi che ha cercato di inventare qualche giocata. Però per il resto, gli altri, mi è piaciuto anche Verratti, anche se poi alla fine ha perso qualche pallone un po' sanguinoso. Però ragazzi, alla fine, poca roba, poca roba al PSG quest'oggi in fase offensiva, pochissima roba, pochissima roba. Messi che giocava parecchio lontano dalla porta e cercava di imbucare qualche palla per Neymar o compagni, cercava qualche scambio. Poi le due vere occasioni che ha avuto il PSG praticamente le ha avute verso fine partita, con Mbappé che si mangia un gol. Perché ragazzi si è mangiato un gol, Mbappé era stato mandato in porta dai compagni con il solito passaggio a scavalcare la difesa, ad aprire la difesa, con il solito filtrante. Lui corre verso la porta e si impappina col pallone, se sbaglia lo stop se lo allunga. E poi l'altra occasione, quella che ha avuto Messi ed è stata deviata da Pavard. Pavard che poi è stato espulso, tra l'altro salvataggio di Pavard decisivo. Però ecco, se pensiamo al potenziale offensivo che ha il PSG, è troppo poco, troppo poco. PSG che a un certo punto secondo me è anche un po' gigioneggiato con la palla. Cioè a volte ha cercato degli scambi anche in difesa un po' troppo rischiosi e offensivamente spesso e volentieri ha sbagliato la scelta finale. Io continuo a notare in Mbappé che piuttosto che passare il pallone a volte si intestardisce. Comunque sicuramente al ritorno la presenza di Mbappé lì davanti può essere un fattore. Perché ragazzi abbiamo visto, basta imbucare una palla in velocità e Mbappé non si tiene. A meno che a mio avviso non ci mettono a uomo Davis. Secondo me sarebbe anche da valutare come cosa. Sicuramente è un Pamecano come De Ligt, eccetera, non possono stare dietro lo stesso Pavard, non possono stare dietro la velocità di Mbappé. Quindi vedremo cosa succederà al ritorno. PSG che l'anno scorso contro Real Madrid aveva vinto la partita d'andata, quindi invece quest'oggi esce dal capo sconfitto. Chissà che l'esito non sia opposto, perché se vi ricordate l'anno scorso contro Real Madrid uscì dalla Coppa, Real Madrid che poi vinse la Champions. Però ecco, secondo me può farcela, perché anche oggi a me il Bayern non mi ha impressionato. Sì, ha creato un po' di più, ha avuto un po' di più il pallino del gioco, ma onestamente non ha creato chissà quali grandissime occasioni. Ricordo quella del gol e quella poi con una buona parata di Donnarumma, che avrebbe potuto portare il 2-0 del Bayern. Però non ho visto chissà quali occasioni, anche la parte dei tedeschi. E questo deve comunque dare speranza al PSG. Però ragazzi, ripeto, il PSG è una squadra a mio avviso costruita male, è una squadra con 4-5 top player veramente di livello. Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, poi possiamo metterci sicuramente Ramos, possiamo metterci anche lo stesso Achimi, che oggi si è visto poco o nulla. Poi però, cioè, ci sono giocatori in campo come Pereira, oggi giocava Zair Emery, Soler, sono giocatori che non hanno niente a che fare con una squadra del genere. E poi si vede la differenza, si vede la differenza. Sottolineo la prestazione, a mio avviso, buona, buona di Ramos, che ha salvato in un'occasione, un'occasione veramente pericolosa su Musiala. La sottolineo perché comunque sia Ramos sta vivendo delle stagioni difficili dal punto di vista fisico, però è quando io parlo di top player che poi fanno la differenza in queste partite, è questo. Ramos è un giocatore che ha esperienza da vendere e si vede. Ragazzi, non è un caso che certi giocatori vincono più anni le coppe, oppure comunque sono tre migliori nel ruolo per anni. Si vede, si vede, punto. Detto ciò, cosa mi aspetto dal ritorno? Mi aspetto un Bayern che proverà a giocare il suo calcio piuttosto offensivo e un PSG che però vada in maniera più decisa e cattiva a cercare la porta. Perché ragazzi, finché non c'è stato comunque Mbappé in campo, era Messi che provava a dare palloni ai compagni e fargli andare in porta, ma nessuno riusciva a farlo. Quando è entrata Mbappé poi hanno iniziato a giocare nella stessa maniera solita, appunto, palla a cercare Mbappé sulla corsa, che però io continuo a dire, per me a volte diventa un limite questo tipo di giocata, perché se ti riesce bene, ok, però se una squadra tiene la difesa più bassa, secondo me il PSG va molto più in difficoltà. Quindi sono curioso di vedere cosa farà il Bayern al ritorno proprio sotto questo punto di vista, perché onestamente, secondo me, giocare con la difesa un po' più bassa per evitare di concedere troppi spazi a Mbappé potrebbe essere la mossa assolutamente vincente. Perché ragazzi, Mbappé comunque nello stretto non ha le capacità di Messi, non ha le capacità di Neymar, e quindi a quel punto potrebbero essere Messi e Neymar a dover risolvere la partita con una giocata nello stretto, però prendete anche la partita di oggi, su Messi arrivavano sempre in due barra in tre e l'espulsione deriva da un fallo sul finale di Pavard su Messi. E' stato fortunato che questo intervento fosse pochi centimetri fuori dall'area di rigore, se no sarebbe stato rigore. Ultima cosa e chiudo, giusto annullare il gol di Mbappé con l'azione che aveva iniziato Messi, palla Neymar, parla per Nuno, fuori gioco di Nuno, assolutamente corretto, di poco, ma c'era, è Mbappé che aveva spinto la palla in rete. Si vede annullare quindi giustamente il gol. Ripeto, mi aspetto un ritorno col botto, perché secondo me il Piaget dovrà necessariamente mettere in campo tutta la sua forza offensiva. Sottolineo la prestazione di Donnarumma, che ancora una volta in una partita importante in Champions League fa un errore grave, gravissimo, perché quello è un errore gravissimo. Ragazzi, questi errori di Champions League, vuoi o non vuoi li paghi, adesso vedremo a ritorno cosa succederà, se sarà fortunato oppure no. Io vi mando un forte abbraccio, vi dite a iscrivervi al canale, faccio i complimenti al Milan che ho visto campito contro Tottenham, e bene, 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 sono contento. Chiavarinif sarà contento, dai. Io vi mando un forte abbraccio, vi dite a iscrivervi al canale, vi fondete il verbo, ci vediamo domani con Borussia Dortmund-Celsea. Ciao ragazzi.